Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha rilevato la propria incompatibilità a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dell'ingegnere Vincenzo Ortega, dirigente del Comune di Licata, e di Luigi Francesco Geraci, l'imprenditore che ha realizzato il porto turistico marina di Cala del Sole. Nello stesso procedimento, infatti, la dottoressa Turco aveva esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, autorizzando a suo tempo il Pubblico Ministero a compiere intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sulle utenze dei due imputati. Si tratta dell'inchiesta che cerca di fare luce sull'esonero del versamento degli oneri di concessione riguardanti la costruzione del porto turistico di Licata. Al dirigente Ortega e a Geraci la procura contesta il reatto di abuso d'ufficio per avere il primo, con plurime condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, emanato una serie di atti illegittimi al fine di favorire indebitamente Geraci, rappresentante legale della Società Iniziative Immobiliari, che nel 2006 ottenne la concessione di maniale marittima per la realizzazione del marina di Cala del Sole. Ortega, secondo quanto ipotizzato dalla procura, avrebbe intenzionalmente procurato all'imprenditore un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'indebito risparmio in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, rappresentato appunto dall'esonero dal versamento degli oneri concessori per un totale di circa 7 milioni e 200 mila euro, con conseguente pari danno per il comune di Licata. Ad Ortega vengono inoltre contestati i reati di falsità materiale e ideologica commesse in atti pubblici per avere falsamente attestato la sussistenza dei presupposti giustificativi dall'esonero, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire e occultare l'abuso. All'udienza, stando al provvedimento adottato dal precedente giudice Alfonso Malato, che nel mese di luglio ha assunto la titolarità delle funzioni di presidente della sezione penale del Tribunale di Egrigento, il nuovo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di perizia per la trascrizione delle intercettazioni formulata dal Pubblico Ministero e dell'Associazione a testa alta, che si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Lillo Fumo. Si torna in aula il prossimo 1 ottobre.